3 euro, non lo pagate, è in omaggio e oggi sceglietemi il colore, portate a casa il tutto con soli 25 euro. Mi dite il colore che vi interessa signora? Due verdi. Due verdi? Affetta. Ha visto che è stato bello perdere due secondi, due minuti? Mi scelgo il colore che preferisce. Mi vuole un altro verde? Sì, un altro. Sì, allora una.